No, ho detto contrari, 1. 11 favorevoli, contrari, 1. Allora, passiamo al punto successivo, che è il punto 4, è una modifica al regolamento della polizia mortuoria. Allora, lo spiego io, è una richiesta che è stata fatta da un po' di famiglie, le quali avevano i congiunti, e quindi se noi guardiamo la delibera, come avete visto, leggiamo solo il punto che riguarda il punto 2, che è che i loculi possono contenere un solo ferretro e su richiesta di un congiunto vivente una o più cassettine di zinco a tenuta stagna e o urne cenerarie contenenti i resti di un parente prossimo del sepolto. Cioè, è stato visto che c'era la possibilità di mettere più salme, anche vicine, nella stessa posizione, e quindi alcune famiglie hanno espresso questo desiderio. E quindi c'è una modifica solo su questo punto, tutto il resto rimane invariato. Domande? Nessuna domanda? Allora, passiamo alla votazione del punto. Favorevoli? Manca, scusate, è uscito, bisogna seguire. Una limitata dei presenti, va bene. Qui non ci vuole l'immediata eseguibilità, giusto? Volevo chiedere una cosa su questo punto, se si può. Non c'è bisogno di limiti di votare? No, l'abbiamo già votato, non lo so. Volevo chiedere una cosa, è un'informazione perché i cittadini mi hanno chiesto sta cosa, quindi credo sia l'interesse, diciamo, generale. Chiedo chiaramente in merito alla destinazione dei resti esumati e destinati in apposita urna previo pagamento dei congiunti. Il fatto è, questi resti dove vanno? In una cassettina? Cioè, come funziona? Poi, questi resti è possibile visionare? Cioè, nel senso, andarli insomma a far visita, chi vuole magari prega, insomma, è una cosa, ecco, perché mi è stato detto che, insomma, ci sono state delle esumazioni, questi le hanno messo dentro alle, diciamo, a queste urne, non so se sono urne. No, sono di sacchetti. Sì, ecco, io non lo so. No, non lo so, adesso dipende da... Non lo sapevo io, ti dico, è una cosa che ti dico... Dipende, allora, parliamo di estimulazione. Il cittadino paga l'estimulazione, giusto? Nell'urna viene messa quando fai la cremazione. Sì, ecco, io ho detto urna, sì. Lui, la generale è quella della cremazione. Al posto di scegliere se buttarli nell'ossario, sostanzialmente, li mettiamo in queste, non so, sono scatole, tecche, non so. Se vuoi ti spiego, non c'è nessun problema. Ci sono stati dei cittadini che mi hanno chiesto, perché poi chi vuole magari andare a far visita al caro non riesce più a capire dove sono, dove vengono messi, dove vanno questi qua. Allora, nell'ossario vanno chi non ha nome, chi non ha parenti, chi non ha... di solito. Però, se una salma ha dei parenti, e quindi sono telefonicamente raggiungibili, abbiamo un ufficio apposito, che quando fa le estimulazioni, vengono chiamati i parenti, e chi vuole, chi desidera, va a vederli. Quindi, oltre ad esserci il personale preposto, c'è anche il riconoscimento visivo della persona. Ti dico questo, perché io ho seguito tutte le estimulazioni della mia famiglia. Non tutti erano presenti i parenti. quindi, dal riconoscimento, poi si passa a valutare se la persona che è morta da più di 60 anni, 70 adesso non ricordo quando è la data esatta, comunque, vabbè, metti i 60 anni, è ancora integra, e succede che la persona può essere ancora integra, oppure, c'è la cosiddetta saponificazione, cioè la persona è decomposta, però non totalmente, quindi viene messa in questi sacchetti. Quindi, si fa una valutazione al momento dell'apertura della cassa, di solito, e non solo quella di legno, ma anche quella di zinco, perché una volta mettevano un gas dentro la cassa di zinco, e questo manteneva il corpo, diciamo così, più integro. Quindi, abbiamo avuto, nei tempi passati, delle estimulazioni fatte con persone decedute, integre. Cioè, tu, dopo un certo... ma non erano 60 anni, mi sembrava che fosse una data inferiore, tipo 40 anni, adesso non mi ricordo esattamente. Comunque, ho visto con i miei occhi persone integre. Queste puoi decidere se rimetterle nella cassa oppure metterle in un sacchetto. Il sacchetto è fatto di un materiale degradabile. Vengono posizionate in un'altra parte del cimitero, di solito è la parte, quella che va verso i campi sportivi, per intendersi, almeno il posto era là. Viene posizionata una croce provvisoria con il nominativo. Quindi, se uno vuole far visita, anche successivamente lo fa. Dopo un periodo, che posso passare qualche anno, insomma, ecco, in cui, però, il sacchetto con la salma sono sulla terra, quindi è più attaccabile da tutto, viene ricomposto e si mette in una cassettina. Questo solo nel caso, però, la persona è ancora integra. Adesso non si usa più quel gas, quindi probabilmente le persone decedute, dopo questi anni, non sono più integre e quindi puoi metterle direttamente nella cassettina. Non c'è bisogno di metterle a terra per poi metterle nella cassettina. Lì è una scelta che fanno i parenti, insomma, insieme con gli operatori. Nella cassettina le dimensioni sono molto più piccole, ok, è una cassettina proprio di legno, insomma, piccole, e quindi puoi metterle assieme. Ecco perché abbiamo cambiato il regolamento, perché non hai più la dimensione della cassa, ok, perché le unione sono state fatte, insomma, le sepulture vengono fatte con le dimensioni della cassa e quindi anche i loculi. In un loculo ci stanno più cassettine. Allora, c'è anche da parte della famiglia un risparmio, ma oltretutto c'è due persone che possono starci. Se in più, come si usa adesso, c'è la cremazione, ce ne stanno ancora di più. La cosa, diciamo, non dico futuristica, perché viene già fatto in molti cimiteri, è quella di fare proprio dei loculi dedicati alla salma che viene cremata e quindi l'urna prende meno posto e quindi possono starci più posti, diciamo, anche in una parete, più persone, insomma, più defunti. Prego. Sì, è un argomento un po' così, però fa parte della vita anche questo e quindi... Io te l'ho chiesto perché mi hanno chiesto quindi mi pareva giusto portare... Sì, no, ma insomma, io... Perché sai, sono cose, nel senso, che non è che capitino tutti i giorni, no, però, meno uno quando lo sa. Diciamo che uno se la deve sentire anche di fare questa operazione perché insomma non tutti... Ecco, insomma. Va bene, allora... Dobbiamo votare? No? Abbiamo già votato, giusto, quindi è posto se ne abbiamo messo.